Oggi è Natale, come sempre, come ogni anno, siamo riuniti, come ogni anno abbiamo celebrato e partecipato, mi auguro per chi lo ha potuto fare, alla messa di mezzanotte. Oggi ci attende il pranzo in famiglia e poi c'è ancora qualche giorno di festa, ma poi torneremo, per così dire, alla normalità. Ma è questo il Natale che dobbiamo vivere? Cioè il Natale è semplicemente una celebrazione? O piuttosto il Natale è un evento, è un'occasione per fare cosa? È un'occasione per riflettere, per pensare alla nostra vita, per pensare alla nostra fede, per pensare al modo con cui noi riamiamo l'amore totale e infinito di Dio. E ieri ci siamo detto che Natale è essenzialmente la possibilità che nel nostro cuore, nella nostra anima, noi riscopriamo come riamare l'amore che si fa carne per ciascuno di noi, che si fa carne storia, che si fa quotidianità non solo una volta all'anno, ma ogni giorno. Cioè ogni qualvolta io, con lo sforzo di riamare questo Signore, il Signore nasce dentro di me e quando Lui nasce nella mia anima, io lo posso portare e lo posso donare agli altri. Mare Teresa di Calcutta, proprio pensando al modo con cui riamare questo Dio che si fa bambino, ha guardato a Maria e ha chiesto a lei la grazia, l'aiuto per poter riamare l'amore di un Dio che ci ama senza misura, che ci ama senza chiedere nulla. Dio non ci ama, Dio non si è fatto uomo perché noi siamo degni di questo, oppure perché noi in un certo senso lo abbiamo meritato, oppure non si è fatto primariamente uomo perché Dio si è fatto uomo solo per amore, soltanto per amore e Dio ci previene sempre. Dio è un amore che ci previene, è un amore disponibile sempre. Spetta solo a noi accoglierlo, chiederglielo e invocarlo con la preghiera, con il pentimento, con l'amore, con la carità. Ma torniamo a Mare Teresa che pregava Maria con queste parole e vuole essere anche l'augurio per ciascuno di voi, l'augurio soprattutto per quelli che oggi vivono un Natale di sofferenza. Maria, Madre mia amatissima, dammi il tuo cuore così bello, così puro, così immacolato, così pieno di amore e umiltà, che io possa ricevere Gesù come facesti tu e andare in fretta a donarlo agli altri. Santo Natale a tutti. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.